Ciao, buon pomeriggio e benvenuti in questo nuovo video. Allora, come potete vedere, mi è arrivato un pacchettone che è una collaborazione. Adesso vediamo insieme che cosa mi è arrivato. Allora, vediamo se riusciamo ad aprirlo senza metterci troppo tempo. Oh, guarda, già intravedo la meraviglia delle meraviglie. Aspetta, eh. Ok, ma che bello. Mi hanno mandato la Resin Pro, la resina trasparentissima. La Resin Pro, sono stati così gentili da mandarmi la Resin Pro trasparente che io non l'ho ancora provata neanche. Adesso sto usando la Fil Crystal, ma la bucciamo perché non mi piace. Infatti non vedo l'ora che finisca. e niente, non vedo l'ora di provare la Resin Pro. Vediamo, è trasparente. Poi, cosa mi hanno mandato ancora? i pigmenti, wow, che adesso apriamo. Adesso apriamo una a uno e poi mi hanno mandato... scusiamo un po' la Resin Pro e basta. non è nei trasparenti... Ah, liquidissima. Questa è la liquidissima. Neanche questa l'ho mai provata. Io sinceramente non vedo l'ora di provarle. Non vedo l'ora. Allora, la catalisi è uguale. 160. Anche questa credo che sia uguale. Sì, uguale. 160. Wow, non vedo l'ora. E vediamo invece i colori dei pigmenti per Resina. Allora. E ora, ce la fai? Giallo. Sì. Wow. Color sabbia. C'è qualcosa che non basta, color sabbia. Si è rovesciata tutto sul tappo. Devo tenerla un po' giusta così. Poi mi hanno mandato... Il rosso. Già si intravede. Aspettate, eh. Il nero. Il rosso. E... intravedo un colore che potrebbe essermi molto utile. Il bianco. Sì. Ci piace. Che uso spessissimo. E il marrone. Signori. La Resin Pro ha il pigmento marrone per la resina. Cioè, tutti i nostri problemi... Ah! Tra l'altro è proprio color cioccolato favoloso. Tutti i nostri problemi nel fare il colore cioccolato a questo punto... almeno per me verranno dissipati. No, non profuma di niente. Puzza. Però, ragazzi, io... Allora, io sono stati carinissimi. Questa è una collaborazione. Ovviamente, eh... Eh... Li ringrazio tantissimo per avermi mandato queste due resine che proverò sicuramente al più presto. E poi... Assolutamente voglio provare i pigmenti. Soprattutto... Vabbè, il bianco che uso tantissimo. Il marrone che uso spesso anche lui. però anche questo color sabbia mi ispira parecchio. È tipo il cappuccino che faccio io, no? A me sembra tipo il cappuccino che faccio io. Sono stati veramente gentilissimi. Niente, ragazzi. Alla prossima. Anche se il video è stato breve. Dovevo per forza farvi vedere sta meraviglia che mi è arrivata. E... E niente, ragazzi. Alla prossima. Ciao! Alla prossima. Va bene. Niente. Ciao!